Sì, diciamo, dalla Sicilia, come si dice sempre, un laboratorio. A me non piace definire la Sicilia un laboratorio, come spesso si dice, ma questo progetto di Nello Musumeci, il progetto del centro-destra compatto, fa capire come anche spostando l'ago della bilancia più a destra, che è verso il centro, si può ottenere comunque una grande vittoria. Un centro-destra credibile, sposato dalle gente che nutre ancora speranze nella buona politica.